Ciao, sono Alessandro Vetrano, 25 anni, vengo da Bologna e niente, questa sera suoniamo a Porto San Giorgio, Marche. Ciao, sono Kevin, vengo da Padova, ho 20 anni e stasera suoniamo a Porto San Giorgio. Ci vediamo lì. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS San Giorgio, Marche. San Giorgio, Marche. San Giorgio, Marche. è vero, è vero, grande regina, grande cantante che mi ha fatto girare il mondo ecco perché gli abbiamo regalato questo premio lei da lassù ci guarda e ci vuole bene sempre e bisogna ricordarla, perché i grandi vanno ricordati e un trofeo a una regina come ho fatto io l'ultimo suo anno di vita che l'ho portata a Sanremo perché mi diceva sempre ho vinto una volta il primo premio, una volta ne ho vinti tre primo, secondo e terzo premio Sanremo non mi ha mai dato niente, non mi hanno dato mai neanche un premio giusto una cittadinanza onoraria loro ho chiamato il sindaco e gli ho detto sindaco, dia la cittadinanza onoraria alla mia regina e così è stato, è stata l'ultima volta che è apparsa in televisione e aveva 96 anni veramente grazie anche a Marco Rettani, presidente giuria ricondando l'appuntamento che è a fine settembre a Salso Maggiore come ricordava appunto Lele Mora e ricordando la finalissima che è il 3 ottobre buona musica, buona vita, buona estate dal grande trofeo Nilla Pizzi, terza edizione Lele Mora, Giosquillo e tutti gli amici vi auguro buona estate brava Gioco, grandissima sempre